adriana volpe ed elenoir casalegno due showgirl italiane molto amate dal pubblico hanno entrambe trovato l'amore di recente la trentina volpe ha svelato in esclusiva verissimo di essere fidanzata per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con roberto parli avvenuta nel 2020 dopo la sua partecipazione al grande fratello vip anche casalegno ha un nuovo compagno entrambi estranei al mondo dello spettacolo il partner di volpe proviene dal settore imprenditoriale mentre quello di casalegno è legato alla politica quota lega adriana volpe ha raccontato che la sua storia d'amore con dario costantini è iniziata grazie al lavoro quando lo ha intervistato per un programma televisivo costantini è il presidente nazionale di cna e ha conquistato il cuore della showgirl con la sua gentilezza anche elenoer casalegno ha un nuovo amore matteo pandini noto giornalista e portavoce del vice premier salvini entrambe le showgirl sembrano molto felici e appagate nella loro nuova relazione volpe ha dichiarato che costantini è riuscito a farla sorridere come non faceva da tempo mentre casalegno sembra aver trovato in pandini una persona speciale entrambe le coppie sono ancora agli inizi della loro storia d'amore ma sembrano molto affiatate e felici insieme le due showgirl italiane hanno conquistato il cuore del pubblico con la loro bellezza e simpatia e ora sembrano aver trovato la felicità anche nella loro vita sentimentale i fan sono entusiasti di vedere le due donne così radianti e innamorate e non vedono l'ora di scoprire cosa riserverà loro il futuro grazie a tutti